Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Siamo ancora su Genshin Impact perché non abbiamo finito. Oggi si parla degli elementi. Gli elementi che caratterizzano i nostri personaggi ma che è meccanica fighissima presente all'interno di questo gioco possono interagire e collaborare in questo caso tra di loro. Ebbene sì, ogni personaggio così come ovviamente si può vedere tramite il loro segno sopra e accanto al loro nome possiedono un'affinità con un elemento. L'affinità con l'elemento in questione non solo darà un bonus al party in base alla combinazione degli elementi ma sarà possibile sfruttare in combattimento queste combinazioni di elementi proprio perché come in natura sono elementi che tendono ad unirsi e ovviamente rinforzarsi o indebolirsi tra di loro. Partiamo subito col dire che quando si va a costruire un team in base ovviamente alle caratteristiche dei personaggi dobbiamo anche considerare gli elementi che portiamo all'interno del team. Infatti nel momento in cui noi abbiamo il nostro setup originale di team premendo il tasto R3 perché vi ricordo che io sto giocando su PS4 abbiamo la possibilità di vedere la tabella della risonanza elementale. Che cos'è la risonanza elementale? La risonanza elementale non è altro che un bonus che viene attribuito al party intero quando si soddisfano combinazioni di elementi diversi o di elementi uguali in questo caso. Infatti come potete vedere io per il momento ho attivo l'effetto di High Voltage proprio perché possiedo all'interno del team due personaggi di elemento tuono che sono ovviamente Razor e Fiscal. Nel momento in cui questi due personaggi tuono fanno parte del mio team abbiamo High Voltage attivo che ci permette di essere affetti da idro per il 40% di tempo in meno. Super Conduct Overload and Electro Charged ha il 100% di possibilità di generare elettro piccole particelle elementali elettriche con un cooldown di 5 secondi. Quindi non solo saremo affetti dalla condizione di hydro del 40% di tempo in meno ma utilizzando la combinazione Super Conductore Overload e Electro Charged avremo la possibilità di generare il 100% di particelle elementali in più quindi che possiamo accumulare per noi stessi o per il nostro team con un cooldown di 5 secondi l'una. Quindi veramente tanta tanta roba. Per quanto riguarda ovviamente i vari elementi in base giustamente all'elemento che andremo ad utilizzare all'interno del team avremo diversi bonus. Per esempio abbiamo anche Fervid Flames che si ottiene tramite due personaggi di tipo fuoco quindi effetto ghiaccio 40% in meno e incremento dell'attacco del 25% quindi già qua andiamo a rinforzare nettamente anche il nostro team. Shooting Water dove abbiamo la possibilità di avere Pyro Effect su noi stessi il 40% di tempo in meno e incrementare le cure ricevute del 30%. Impetus Wind decresce il consumo della stamina del 15% e incrementa la velocità del movimento del 10% e riduce il cooldown delle skill del 5% quindi abbiamo anche una riduzione del cooldown delle skill che non è affatto male. Shattering Ice essere affetti da Electro 40% di tempo in meno incrementiamo il tasso di critico contro i nemici ghiacciati o con effetto Creo o diciamo tramite l'effetto Creo del 15% Enduring Rock che incrementa la resistenza alle interruzioni perché purtroppo alcuni personaggi soprattutto quelli magici possono subire interruzioni e quando si ha uno scudo attivo incrementa il danno d'attacco del 15% quindi anche questo molto molto buono e invece quattro elementi diversi tra di loro all'interno del team abbiamo Protective Canopy quindi tutta la resistenza elementale aumentata del 15% Devo ammettere che la possibilità di combinare gli elementi sia dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo trovo sia un'idea veramente veramente figa. Esistono diverse combinazioni di attacco ovviamente per chi giustamente utilizza la logica saprà benissimo che ci sono diversi elementi tra di loro che entrando a contatto riescono a potenziarsi mentre alcuni riescono addirittura ad indebolirsi l'esempio più lampante che vi posso fare in questo momento è per esempio il tuono con l'acqua quindi se con Mona effettuo la possibilità di infliggere lo status Wet quindi lo status Bagnato nei confronti dell'avversario utilizzando un personaggio di tipo Fulmine ovviamente otterrò un bonus di danno perché farò la combinazione Super Conduttore ovviamente perché l'acqua è un ottimo conduttore per quanto riguarda l'elettricità così come il vento e il fuoco insieme che alimentano le fiamme dato che comunque l'aria possiede ossigeno e quindi di conseguenza il fuoco tramite l'ossigeno viene alimentato o addirittura il tuono con il vento che hanno la possibilità di creare una sorta di scarica elettrica una sorta di tornado elettrico che consente di effettuare danni a tutti i nemici e poi anche varie combinazioni di più elementi come per esempio il vento, il fuoco e il fulmine che tutte quante insieme permettono di essere una tempesta praticamente elementale ma al tempo stesso altri elementi vanno a calpestarsi i piedi tra di loro ad esempio l'acqua spegne il fuoco quindi di conseguenza avere attacchi di tipo acqua contro nemici di tipo fuoco permette di infliggere dei danni bonus scusatemi l'acqua insieme al ghiaccio permettono di congelare gli avversari quindi infliggere lo status wet con lo status krio che sarebbe per l'appunto il ghiaccio permettono di congelare il nemico il vento e l'acqua che insieme formano una sorta di cascata quindi permettono di avere la potenza dell'acqua diciamo che il vento di per sé all'interno di questo gioco è un buon conduttore per quasi tutti gli elementi ecco perché il personaggio di venti viene considerato quello più forte all'interno del gioco soprattutto per la sua ulti che consente di effettuare un tornado in cui all'interno vengono raggruppati tutti i nemici e poi a questo tornado gli si può attribuire un elemento alla volta ogni qual volta effettua questo attacco quindi lui parte facendo questo tornado di tipo vento ma noi tramite i nostri elementi possiamo letteralmente cambiare la natura di questo vento renderlo infuocato, renderlo acquoso, renderlo col tuono eccetera eccetera quindi ecco perché fondamentalmente i personaggi di tipo vento tendono a sposarsi con quasi tutti i personaggi di tipo fuoco ovviamente si sposano molto bene con gli elettrici e col vento permettendo la possibilità di avere dei danni praticamente caricati nel tempo perché giustamente overload viene effettuato tramite fuoco e vento ci sono diverse combinazioni che ovviamente si possono effettuare ora come potete vedere qui stiamo affrontando un evento random dove praticamente come potete vedere il tipo di vento che praticamente utilizziamo in questo momento può entrare in combinazione con l'acqua perché ora giustamente siamo contro nemici di tipo tuono quindi utilizzando l'acqua abbiamo la possibilità di infliggere l'electro charge e infatti come potete vedere i nostri nemici si infliggono danni tra di loro perché diventano loro stessi dei condottori poi il vento unito praticamente con l'acqua effettua un bonus di danno non direi eccezionale non tanto alto perché comunque non effettua un danno altissimo purtroppo però la cosa che ovviamente volevo farvi vedere era la possibilità di poter effettuare la ulti ecco di venti insieme praticamente a un altro elemento per farvi vedere il perché il personaggio è davvero forte ora questi per questi nostri non verranno mi sa messi al centro anzi invece sì un po' e guardate un po' unendolo con il tuono il nostro tornado è diventato elettrico ora giustamente essendo un nemico di terra giustamente l'elettricità non gli fa nulla come danno perché il praticamente la pietra riesce ad essere un isolante quasi per quanto riguarda il tuono però la combinazione dei vari elementi per esempio acqua e fulmine vento e acqua che è molto molto potente vi consentirà comunque di essere abbastanza incisivi per quanto riguarda il danno non c'è molto da dire altro per quanto riguarda gli elementi se non di sperimentare di provare e di tentare combinazioni diverse proprio a causa del del come dire quasi della vostra curiosità ecco mettiamola così le combinazioni sono infinite avete veramente la possibilità di scegliere combinazioni su combinazioni io ve ne ho dette semplicemente un paio giusto per darvi le basi come sempre per il resto poi ovviamente sarete voi a gestire il meglio sia per quanto riguarda il combattimento sia per quanto riguarda anche l'esplorazione in generale c'è da dire anche che non solo gli elementi ma anche le armi influiscono molto per quanto riguarda l'esplorazione vi do soltanto questa piccola parentesi che magari potrebbe anche non centrare tantissimo col video che ho intenzione di fare adesso ma vi posso dire che comunque anche le armi vi consentiranno di esplorare e di essere più veloci all'interno dell'esplorazione del gioco perché alcune armi vi permetteranno di poter ottenere materiali di gathering quindi tramite l'ottenimento di che ne so distruzioni delle rocce per ottenere il metallo oppure la distruzione degli alberi per ottenere la frutta e quindi vedete in base all'arma che utilizzate avrete la possibilità di ottenere più materiali e soprattutto distruggerli in minor tempo soprattutto alcune rocce che essendo molto dure devono essere necessariamente distrutte tramite la spada a due mani infatti Diluc vi ricordo essere uno dei personaggi migliori presenti all'interno del gioco perché possiede il fuoco che è uno degli elementi offensivi più forti presenti all'interno del gioco ma al tempo stesso possiede la spada a due mani quindi sia come danni sia come esplorazione è davvero davvero ottimo detto questo io per il momento non ho altro da aggiungere gli elementi sono comunque una ricerca personale per ogni tipo di giocatore e per ogni playstyle del giocatore quindi fate più combinazioni possibili sperimentate io vi ho dato le basi il resto ovviamente spetta al giocatore detto questo io vi ringrazio per essere stati con me spero che il video vi possa essere piaciuto in un modo o nell'altro e io come sempre vi saluto e vi auguro una buona giornata e ci becchiamo ovviamente in live su Twitch o qui su YouTube bye bye